Anche quest'anno, come tutti gli anni, siamo vicini ai nostri soci pensionati. Consegniamo stamani, in via ufficiale, ma anche tutti i giorni, la tessera che quest'anno darà un'ulteriore opportunità ai nostri pensionati, perché oltre ad avere le agevolazioni territoriali, grazie alle nostre convenzioni stipulate con aziende private e anche società sanitarie, anche convenzioni nazionali. Quest'anno la novità è che consegniamo ai nostri pensionati come piccolo regalo, piccolo cadeau, due pacchi di mascherine a testa. Allora, quest'anno, contrariamente a quello che succedeva agli anni scorsi, che la tessera arrivava per posta assieme alla rivista Persone e Società, quest'anno abbiamo preferito consegnarla, iniziare la campagna di consegna delle tessere e con la raccomandazione che chiunque voglia la tessera venga nei nostri uffici a ritirare le proprie tessere, in modo che tutti possiate avere la tessera e usufruire delle tante tante convenzioni che sono in essa riportate. E quest'anno c'è una novità per i nostri artigiani pensionati, all'interno della guida convenzioni del 2021, che è già in distribuzione a tutte le nostre imprese associate, c'è lo speciale convenzioni ANAP. Sono riportate all'interno della nostra guida tutte le convenzioni che possono essere fruibili da parte dei nostri artigiani pensionati. Inoltre, all'interno proprio della guida, per ogni convenzione, come vedete, c'è un simbolino, il logo di ANAP, che significa che la stessa convenzione che vale per le imprese associate, e vale anche per i pensionati ANAP.